Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Green Project e oggi desidero anche ringraziare gli sviluppatori per avermi concesso di fare questo video. Il gioco ha una peculiarità, ha un prezzo veramente eccezionale perché su Steam costa, non scontato, 6,20€, sui 5,60€ invece quando è sotto sconto. Che cos'è? È un survival, ve lo faccio vedere subito, iniziamo una nuova partita, dove noi ci troviamo di ritorno da un lunghissimo sonno criogenico sulla terra, ma la troviamo contaminata da spore e fungine. Allora, partiamo in questo modo, una grafica che ricorda molto Stardew Valley, Graveyard Keeper, insomma e così via. Abbiamo un inventario che va a espandersi man mano poi noi andiamo a equipaggiarci con nuovi indumenti. La prima cosa che facciamo è andare a esaminare un pochino quello che abbiamo intorno, trovare delle cose, del timo, con la B apriamo l'inventario. Equipaggiamo i pantaloni col click destro e vedete che lo spazio aumenta, possiamo mettere il macete nella barra veloce sotto. Col tasto B appunto si apre l'inventario e poi ci ritroviamo qui, la prima cosa che ci domandiamo è mai la terra questa? Probabilmente poi scopriremo essere proprio la terra messa proprio malissimo. Abbiamo un sacco di oggetti da esplorare e anche un sacco di ricette di crafting da scoprire. Questa è la prima zona dove noi ne faremo il nostro centro, vedete che adesso è aumentato di uno lo spazio dell'inventario, il centro di crafting dove ci spiegherà il gioco, qui ad esempio potremo andare a cucinare, preparare delle ricette di cucina, preparare i vari tè. Qua metteremo il deposito di legname, qua si dorme, qua c'è un inventario che ricorda appunto molto quello di stadio perché abbiamo un sacco di strumenti, gli strumenti ci servono. Equipaggiamo anche la canottiera, la fiaschetta la lasciamo lì per il momento, poi c'è un idiota che ha messo un collector dell'acqua all'interno della casa quindi non lo possiamo spostare fino a quando non sarà completamente vuoto. Qua abbiamo un altro armadietto con un'altra serie di utensili, io al momento deposito quello che non mi serve. La prima cosa che faremo è andare a pianificare quello che è il piano di sopravvivenza, quindi andare a piantare un po' di semi. Poi vi farò vedere le ricette di crafting che sono veramente tantissime. Intanto inizio a spiegarvi, questo è il tavolo da macellaio dove andremo a raffinare gli animali, insomma quello che troveremo. Questo è un tavolo di alchimia dove andremo a prepararci le nostre pozzoncine e questo è il tavolo invece generico dove la workbench, dove andremo a fare utensili, trappole e balle varie. Vi farò vedere a breve che cosa si può fare, ma per intanto voglio mostrarvi che sulla sinistra avete la salute, la sete, la fame, la contaminazione e la fatica, un po' la strada di valley appunto. Equipaggiamo la zappa, oggetti che si danneggiano e possiamo poi riparare. Allora, in questo caso l'ho messo nella barra sotto, se premessi F1 o cliccando qua andrei ad attivarlo. Adesso in questo caso sono stato un babbano perché non l'ho aggiunta qui. Ok, cliccando lì, vedete, col tasto destro vado a zappare. Quello che il lomino mi dirà adesso è che sto sprecando le mie forze. Probabilmente. Ok, abbiamo fatto. La cosa scomoda che ho notato del gioco è che dovete trascinare tutto qua sotto, selezionarlo e poi piantarlo. Ovviamente se qualcuno di voi lo ha già giocato e sa un metodo migliore, non esiti a dirlo. Come on, Leon. Ok, va bene, si cazza da solo. Ok, abbiamo piantato. Adesso trasciniamo sotto il fiattoio. Che andiamo a usare. Sì, nulla di nuovo qua, insomma, è qualcosa di già visto. Adesso vi faccio vedere così potrete emozionarvi l'elenco di cose di crafting da poter fare. Qua c'è qualcosa, no. Allora, andiamo a depositare, perché è molto importante tenersi un inventario libero il più possibile. Andiamo a depositare... Non so, cosa mettiamo in innaffiatoria. Teniamo in mano, lo trasciniamo qua. No, lo mettiamo nello zaino. Ma me lo disequipaggi, ok? Ok, metterlo lì. Perfetto. Allora, vi faccio vedere. Perché la prima cosa che vorrei fare è fare... Allora, qui abbiamo tutto il backpack, lo zaino grande e così via. Il collettore dell'acqua, che è la prima cosa che faremo, così per prendere acqua quando piove. Qui c'è il composto per fare fertilizzante. Diciamo una sorta di fabbrica di semi. Abbiamo per allevare gli animali, tutti i vari gabbi e trappole letali, trappole non letali, le, diciamo, fence, la recensione, il cancello, il cibo per polli, il cibo per ratti, la trappola per ratti e così via. Abbiamo i materiali grezzi, che sono in pratica dalle assi di legno alle griglie di metallo e i chiodi. Tutto molto importante. I tools, quindi la possibilità di riparare tutti i tools che abbiamo, anche di fare il mortaio e il pestello, che a breve faremo. Faremo il mortaio e il pestello, faremo il collettore dell'acqua. Allora, la prima cosa che facciamo, andiamo, equipaggiamo l'ascia, l'accetta. Altra cosa, il gioco ci limita, e non so ancora poi come uscirne, da questa zona, con, vi limita con queste cose tossiche. Cosa importante da fare, salvare. Perché, se morite e non avete salvato, perdete tutto. Altra cosa abbastanza scomoda, il fatto che non basta tenere premuto il tasto destro, ma dovete cliccare ogni volta. Ovviamente non lo fa sempre. Lo fa solo con determinate cose. Quando dovete raccogliere da terra, basta tenerlo premuto. Quando invece dovete abbattere, il gioco vi fa sudare il lavoro, facendovi consumare il tasto del mouse. Allora, graficamente ho detto carino, mi ricordo appunto quei due titoli che ho citato prima, Graveyard Keeper e Stardew Valley. Intanto io prendo un po' di legna, credo che basti così. Facciamo questo maledetto Water Collector, così iniziamo a metterci da parte un po' di acqua. Perché uno dei problemi che mi hanno detto, mi diceva Argonaut, che, se non ricordo male, uno dei problemi di questo gioco era assolutamente non morire di fame e di sete. Ma in realtà al momento siamo abbastanza tranquilli. Vediamo che cosa ci serve per fare il Water Collector. È un po' confusionale questo menu di creazione. Allora, prima di tutto vi faccio vedere. Facciamo un mortaio del pestello. Quindi ci serve una lima. Mettiamo una lima. Io intanto mi prendo il metallo che era qua appoggiato sul tavolo. Lima, macete e poi un pezzo di legno. Craft. Vedete, due minuti. Passano velocemente perché... Craft veloce. Ok, e l'abbiamo fatto. E l'abbiamo qua. Mi riprendo il legno e lascio dentro sta roba. Poi, dobbiamo fare per il farming il Water Collector. Quindi ci servono dieci assi. Per fare dieci assi bisogna andare su materiali grezzi e fare dieci assi. Quindi cinque. Ogni volta cinque. Quindi cambiamo con la sega. E poi i materiali. Quindi cinque. Questo non ci serve. Deve essere proprio preciso. Ok, craftando con uno di questo, e ovviamente la sega per tagliare il tronco, ne facciamo cinque. Ne faccio altre cinque. E poi finalmente possiamo andare a fare il nostro Water Collector. Che troviamo sotto Farming Water Collector. Quindi abbiamo scambio con le assi. Questi li mettiamo insieme. Li impiliamo. Dieci assi. Il martello, i chiodi, e i rametti. Si può fare. Si può fare. Ok. Un minuto. Quindi niente di che. Riprendo. I chiodi li lascio lì. Non dobbiamo che se ne frega. Prendo questo. Lo trascino sotto. Esco di casa. Lo seleziono. Anzi lo seleziono già ora. E il gioco ci dice dove possiamo andare a piazzarlo. Diciamo qua. Ok. Lo piazziamo qua. E ok. Abbiamo fatto quasi tutto. Ora abbiamo il mortario e il pestello. Abbiamo tutto. Possiamo provare a fare il tè. Faccio vedere come funziona. Drink. Facciamo il tè di timo. Che in questo caso ci va alle varie delle radiazioni. E ci cura la sete. Ci serve 50 d'acqua. Ne abbiamo 100. In questo caso possiamo anche bollire l'acqua. Se lo vogliamo. Non ce ne frega. Prendiamo il timo che ho sicuramente abbandonato da qualche parte. Non qua. Bisogna fare attenzione appunto a bollire l'acqua. Perché se no. Timo. Veniamo qua. Prendiamo il timo. Mettiamo qui. E poi il mortario. Ok. Una volta fatto. Ne possiamo fare un altro. Ah. Uno alla volta ragazzi. Ah ok. Vedete. Sta finendo di cucinare. Una volta cucinato ci verrà servito qua. Su questo tavolo qui. Possiamo anche andare appunto a bollire l'acqua. Quindi raffinarla. La possiamo mettere qua. E l'acqua bolle. Ah ok. La possiamo fare ora. No. Vabbè. La lasciamo fare. E niente. Poi. Sì. Stanno crescendo alberi a una velocità impressionante. Alberi morti praticamente. Intanto qua cresce. Sì. Credo cresca tutto. Qua sotto mi pare ci sia dell'altro. Sì. Non è un mondo procedurale a quanto ho visto. Qua vabbè. Prendiamo il cioccolato. La ferrite. Prendo tutto. Poi il massimo deposito. Questo si può prendere. Messerino. Chiodi. Tanti chiodi. E lasciarli lì. Tanto. Poi si possono prendere anche i sassi. Queste rocce qui. Che anche quelli sono materiali da crafting. E il gioco è single player. Fortunatamente. Ok. Quasi finito. Quasi finito. Anche appena veramente uno sputo. E una volta che finiamo questa. Vedete l'occhio che si sta chiudendo. In questo caso. Avremo bisogno di andare a dormire. Ok. Eccolo qua. Non ho abbastanza spazio nell'inventario. Quindi vado a depositare qualcosa. Deposito la ferrite. Deposito il cioccolato. Che vado a mettere in stack. Ok. Prendiamo il tè. E ce lo beviamo alla facciazza vostra. Allora. Consuma. Ok. Ci ha abbassato le radiazioni. Ci ha curato questo. Abbiamo bisogno di mangiare. Quindi ci mangiamo una razione militare. E siamo di nuovo a posto. Siamo di nuovo on the road. Possiamo bollire l'acqua. La dovrei avere bollita. Ma non so. Perché ogni volta mi genera anche una tazza. Ah no. Ok. Bolle. Però non abbiamo. Ecco. Altra cosa scomoda. Se volete mettere un oggetto. Volete mettere. Impugnare in mano. In questo caso. Lo sim me l'avevo equipaggiato qua. Potevo mettere anche nella barra sotto. E vedete che mi equipaggia. E mi butta lì nella legnaia. Ora. Io posso bollire l'acqua. Sì. Ma non è acqua. Ok. E anche in questo caso. Io o equipaggio. L'acqua. Vedete che vengo qui. E poi premo il destro. E la riempio. Quindi in questo caso me l'ha riempita. 50. Sento. Ok. Oppure la trascino sotto. E la uso lì. È un po' scomoda questa cosa. Ma magari esiste anche qualcosa. Che io ignoro. Il momento. Qua non abbiamo ricette. Nel chemistry. Non abbiamo nulla. Dovremmo scoprire. Qua possiamo accendere e spegnere il neon. Niente di che. Cosa interessante. È che se vi avvicinate qua. C'è. La mappa. E vi fa vedere la zona. Questa vabbè la formula della relatività. Ma vabbè. Intorno non c'è. Sembra esserci qualcosa. Però di là dice. Sembra esserci qualcosa. Un corridoietto. Qua sotto. Da poter fare. Non invaso da. Da questo. Vediamo. Vediamo se è vero. Sì. Sembra. No. Lì c'è un'acciaieria. No. O la mappa probabilmente. È girata al contrario. Quindi dovrebbe essere in alto di là. Forse. Cioè mi sembrava. Dalla mappa. Che ci fosse qualcosa di strano. Di non corrispondente. O che potrebbe essere qua in alto. Comunque. Vabbè. Poi potremmo andare anche a equipaggiare un altro zaino. A potenziare lo stesso zaino. Quindi. Da fare. Da fare ce n'è. Oh. Forse di qua. Sì. Sì. Forse. No. No. Balle. Balle. Vabbè. Intanto riequipaggio questo. Che magari batto qualche altro albero nell'attesa. Ovviamente appena entrate. Vi inizia a salire questa. La radioattività. E vi scende la vita. Cioè praticamente stare dentro un secondo equivale a morire. Quindi. Non è. Non è il massimo. Soprattutto se all'inizio come me non avete salvato. E perdete tutto. Dovete ricominciare. New game. In realtà adesso ho salvato. Quindi non succede nulla. Va bene. Bisogna trovare il modo. Bisogna trovare il modo per arrivare all'acciaieria. Poi. Non so dirvi ancora. Perché ovviamente me lo devo esplorare bene. Nel gioco. Se ci siano. Ah. Dice. Se. Mi domando. Se piantando alberi vicino al limite. Aiuterà. Ma. Li posso piantare gli alberi. Però. Perché. Sono tutti alberi morti questi. Quindi. C'è anche un pozzo lì. Quindi. Ehm. Boh. Prendo. La mia zappa. E vediamo se. No. Perché non me la. Non me la mette lì. Me l'ha buttata. Ah no no. Ce l'ho equipaggiato. Ok. Le mie energie dovrebbero essere spese da altre parti. Vabbè. Boh. Vedremo. Vedremo poi in seguito. Cosa che trovo abbastanza grezza sono queste icone laterali. Ma soprattutto queste in alto con la foglia e questo contatore qua. Che sono veramente brutte da vedere. Sono proprio sproporzionate. Però vabbè. Non è che sono qui a discutere di estetica. Però insomma. Allora il collettor dell'acqua è vuoto ovviamente perché non piove. Siamo quasi a secco. Sono le 5. Quindi adesso a questo punto andiamo a dormire. Ci curiamo. C'è più che altro. Moriamo di sete nel sonno. Alt. Alt. Devi bere. Scusa. Bevi. Perfetto. E adesso puoi continuare a dormire. Ok. Siamo. È luna di notte. È luna di notte. Il gioco è salvato. Ed è completamente buio. Quindi. Altra cosa da farvi vedere. È con la. Questo macete qui. Potete andare a tagliare. Quindi c'è una buona. Buonissima. Interattività con l'ambiente. Qua vedete. Potete raccogliere. Tenendo premuto. Raccoglie tutto. Quindi stiamo raccogliendo. Hey. Quindi. Paglia. E lì. Si coltiverà. Si alleveranno animali. Non so dire ancora se ci saranno armi. O cose del genere. Fino a che punto si spingeranno alla sopravvivenza. Ma sembra. Senz'altro. Un gioco. Davvero intrigante. Se calcolate il prezzo. Che potrebbe farvi. Magari preferire questo. Piuttosto che altri titoli. È uno Stardio Valley. In pratica. Sulla stile survival. Quindi. Sembra essere davvero interessante. Ma ora. Rimando a voi. I commenti. Chi di voi. Magari l'ha provato. Ha suggerimenti. L'ha giocato in fasi più avanzate. O magari chi l'ha scoperto. Grazie a questo video. Mi faccia sapere. Con i commenti. Qua sotto. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Alla prossima ragazzi. Alla prossima ragazzi. Alla prossima ragazzi. Alla prossima ragazzi.